...di tanti assenti di giornata, Stefano Amoroso come tutti gli altri presenti in tribuna a sostenere la squadra. Ma sì, innanzitutto buonasera. Era una partita particolare, questa qua dura perché abbiamo giocato contro un buon cardito che comunque è una buona squadra, anzi ben attrezzata. Stavamo in emergenza, comunque con 4-5, 6 giocatori titolari e non fuori. Non era facile finire qua e vincere su un campo del genere con una squadra in un buon momento come quella del cardito. Lello Rocco ti ha sostituito alla grande? Alla grandissima, ma non avevamo dubbi. Lello comunque è un ragazzo eccezionale, non solo, anche come calciatore è straordinario. Non avevamo dubbi su questo. Visto proprio che non giocava da un bel po'. Effettivamente sì, assolutamente. Vabbè, a parte gli ultimi due minuti che ci sono venuti i crampi, ma ci sta pure, ci sta pure una partita del genere dopo tanti mesi, dopo un mese più che altro che non giocava, ci può stare, anzi ha fatto il massimo. La prossima settimana torni tu in campo, se il mister vuole. Se il mister vuole, sì, siamo qua a sua disposizione.